Da una delusione chilometrica. Non sa, Ayrton, che quel giovane ha attraversato il fiume per essere nel paddock e poterlo conoscere. Neanche il fango ha potuto fermarlo. Senna si gira, quasi si scusa e spiega il motivo del suo gesto. Il libro non posso autografarlo. Sono in causa con l'editore, ma se vuoi un autografo sulla maglietta è tutto tuo. Bene detto il gesto. Un sorriso piana tutto, come l'autografo sulla maglietta. Sei stato magnanimo. La coscienza di Ayrton sorride. Quasi lo prende bonariamente in giro. Sì, quel fango sui pantaloni mi ha fatto tenerezza. Non poteva sapere come stavano le cose. Basta poco rendere gli altri felici. Ora che pensi di fare? Ne parlo con Sid. Ho una promessa da mantenere. Bene, campione. La coscienza lo saluta, con un abbraccio fraterno. Ayrton apre gli occhi. Guarda Sid con aria distesa. Andiamo a pesca, Sid? Certo, Ayrton, quando vuoi. Vedi di rimetterti in piedi in fretta allora. Ho bisogno di te in questo momento. E fu un momento senza fine. È proprio così. È assolutamente così. Grazie Nadia, perché se le altre volte sei stata davvero toccante, se sei riuscita a entrare dentro al cuore, sei riuscita altre volte a centrare tutti i punti, questa volta non hai solo sbalordito. Hai toccato e commosso. E questo tuo contributo è veramente il gioiello all'interno di questa puntata. E lo voglio tenere stretto al mio cuore. Perché così è. Perché al di là di tutte le cose, al di là della storia che possiamo raccontare di Ayrton, Ayrton è vivo. Ayrton è presente. Ayrton è qui con il suo correre, competere e nel mio sangue. Fa parte di me. Fa parte della mia vita. L'ho fatto per tutta la vita e spicca su tutto il resto. Ayrton ha vinto 41 gran premi. Ayrton ha vinto tantissimo. Ha vinto in Formula 3. Ha vinto in Formula Ford. Ha vinto nei kart. Ha vinto in Formula 1 con la Lotus e la McLaren. Poteva essere la stagione vincente, questa volta con la Williams. Ma Magic? Magic è volato via. Ayrton Ayrton Senna da Silva, questo il suo nome completo, nasce a San Paolo, in Brasile, il 21 marzo del 1960. Perciò questo è uno dei motivi per cui oggi parliamo di lui, perché da poco avrebbe festeggiato 60 meravigliosi anni. E chissà quante cose avrebbe avuto da raccontare. Ayrton nasce in una famiglia di agiate condizioni economiche. Suo padre Milton è un imprenditore ed è proprietario di diverse fattorie. Sua madre Neide è una brasiliana di origini italiane. Neide Senna Milton da Silva Per parecchio tempo Ayrton porterà entrambi i cognomi, scegliendo poi semplicemente il cognome della madre, Senna. Ayrton ha una sorella, Viviane. che diventerà in futuro madre di Bruno Senna, che correrà in Formula 1 con la Williams, con risultati poco esaltanti, ma comunque ha portato di nuovo il nome Senna sulle piste e un fratello, Leonardo. Ayrton riceve un giorno come regalo un kart e comincia ad allenarsi sulla pista che ha nella sua tenuta. ci sono quei momenti in cui lo sappiamo perfettamente, no? Noi sappiamo che cosa vogliamo fare nella vita, quindi c'è chi vuole diventare per dire ingegnere, chi vuole diventare pilota di aereo, chi vuole diventare ragioniere, chi vuole diventare geometra, chi vuole diventare qualsiasi cosa. e c'è qualcuno che invece gli dice no, no, tu da grande farai questo. Tu da grande ti può piacere l'ingegneria? No, tu da grande farai il medico oppure l'avvocato, perché nella nostra famiglia tutti sono avvocati, tutti sono medici, perciò tu non puoi sfuggire a questo destino. Beh, ci sono questi casi, e casi invece in cui la famiglia ti incoraggia a seguire la tua passione. Chi ha, chi vive un'esperienza del genere non si rende conto della fortuna che ha. E Ayrton ha questa fortuna, perché il padre lo incoraggia ad allenarsi. Ayrton quando torna da scuola, che ha ancora un soldo di cacio con i capelli a spazzola e con i pantaloncini corti, la prima cosa che fa molla i libri, fa una merenda veloce, poi si siede sul suo kart, inizia inizia a inallenare giri su giri. E Ayrton sviluppa, grazie a questo, una sensibilità che è fuori dal confine dell'umano. Tant'è che quando comincia a scendere in pista e a fare sul serio nel 1973, a gareggiare nei kart con un parilla, con un motore cento centimetri cubici, si fa immediatamente notare perché la sua guida è decisa, pulita, non fa un errore e quando lo fa immediatamente recupera, spicca per la sua determinazione, per la sua volontà, non esiste nessun piazzamento se non il primo. Ayrton vuole vincere, vuole vincere tutto. Perciò Ayrton comincia Interlagos e vince all'esordio e conquista nello stesso anno il campionato junior. Poi cresce e nel 77 e nel 78 vince il campionato sudamericano di categoria e dal 1978 in avanti per quattro volte consecutive vince il campionato brasiliano. Dopodiché Ayrton inserisce in sé quella goccia di splendore che gli viene dal vivere in Italia. Impara la lingua, si ambienta bene anche se la saudade che farà sempre parte della sua vita perché Ayrton ha goduto molto poco è stato felice a volte. Arriva in Italia a Milano e sotto i colori della DAP vince ed è protagonista dei campionati mondiali del 79 dell'80 anche se il titolo gli sfugge per un pelo in entrambe le occasioni poi nel novembre del 1980 si trasferisce in Gran Bretagna e lì va ad abitare in una casa molto semplice due camere poco più studia studia l'inglese cerca di prendere mano con questa lingua per lui al momento ostica è amico di Cico Serra che è già tre anni che vive in Inghilterra e conosce bene l'inglese Serra lo presenta a Ralph Furman il proprietario della scuderia Van Diemen e dopo un breve test riesce a ottenere un ingaggio che Ayrton si sposa nel 1981 per la prima e unica volta ma di questo ne parleremo dopo si stabilisce nel Norwich a Norfolk con la moglie esordisce nel 1981 in Formula Ford 1600 disputa il campionato britannico Iraq e il Townsend Torrensen e li vince entrambi con 12 vittorie 3 pole position e 10 giri veloci su 19 gare l'anno seguente passa alla Formula Ford 2000 disputando sia il campionato britannico pace british sia l'europeo e anche questa volta li vince entrambi con 21 vittorie 15 pole position e 22 giri veloci su 29 gare un killer per lui non esiste altro piazzamento che la vittoria ha una fame inesauribile di vittorie e con questa mentalità si infila il casco entra nella tuta scende nell'abitacolo mette in moto e guida la sua guida è inenarrabile nessuno guida come lui nessuno esprime un potenziale alto come il suo e a fine stagione esordisce nell'ultima prova del difficilissimo campionato britannico di Formula 3 dove conquista pole vittoria e giro più veloce nel 1983 Ayrton viene arruolato dal team ufficiale della Ralt motorizzata da un motore Toyota nel campionato britannico di Formula 3 e vince ancora questo campionato con 12 vittorie 15 pole position e 13 giri veloci su 20 gare il suo grande rivale in questo campionato è Martin Brando che poi troverà in Formula 1 qualche anno dopo a fine stagione c'è un appuntamento fondamentale che è quello nel quale tutti i piloti si cimentano ed è un momento importantissimo perché in quel momento dagli spalti ci sono occhi interessati che guardano i piloti e sono occhi interessatissimi perché sono quelli dei talent scout sono quelli che guardano la gara con estrema attenzione con dei parametri che noi non possiamo nemmeno immaginarci analizzano guardano prendono nota poi tornano in Inghilterra o nella patria della scuderie e riferiscono il gran premio è quello di Macao ed è un gran premio difficilissimo perché si svolge sulle strade di una cittadina è molto simile a Monte Carlo in se stesso ma le curve sono ancora più insidiose le chicane sono pressoché micidiali beh Ayrton parte dalla pole domina entrambe le manche e segna il giro più veloce e in quell'anno adotta semplicemente il cognome materno abbandonando il cognome del padre da Silva d'ora in avanti lui sarà sempre e solo Ayrton Senna e infatti Macao dà i suoi frutti perché verso la fine del 1983 Ayrton svolge dei test su delle vetture di Formula 1 viene chiamato dalla Williams che gli dà a disposizione una FV08C e a questi test partecipa insieme al suo rivale di sempre a Martin Brando e a Stefan Bellof che purtroppo morirà che di divino avanti di l'occhia un'occhia un'occhia di